Importante tavola rotonda, quella tenuta presso il Centro Sociale Anziani di Manfredonia per l'inaugurazione del nuovo anno della CGL SPI, Sindacato Pensionati Italiani. Più lavoro, più stato sociale, più servizi alla persona, più aiuti ai giovani, ma soprattutto valorizzare il sindacato, che è da anni impegnato per la difesa dei diritti dei pensionati, degli anziani e tramite i giovani, in un'epoca di crisi che sta modificando gli assetti familiari delle nostre comunità, le quali accolgono con tanti sacrifici dal punto di vista economico e strutturare i figli, nipoti, parenti e lontani, con la società che sta togliendo la possibilità di un'esistenza basata sul diritto al lavoro ed ad una famiglia propria. Hanno partecipato all'incontro Paolo Cascavilla, assessore delle politiche sociali del Comune di Manfredonia, Franco Persiano, segretario provinciale della SPI CGL e Minatrizio, segretario generale della CGL di Foggia. La SPI CGL è da anni impegnata a difendere il diritto della salute degli anziani, inteso non come assenza di malattie o di infermità, ma nella definizione più ampia di uno stato di completo beneficio fisico-mentale e sociale. Questo è un diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, e come tale va garantito nel rispetto della degnità e della libertà della persona umana. Ed il prossimo 5 ottobre, la mattina, verrà la consegna di una pergamena a due centinari sipontini presso le loro abitazioni, mentre il pomeriggio alle 19.30 presso il Centro Sociale degli Anziani è stata organizzata una serata di intrattenimento e di beneficenza.